Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il telegiornale di Telefriuli delle 13. Partiamo subito dalla cronaca e dal sopralluogo che questa mattina il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha effettuato nei pressi del bar la sciabola di Udine, oggetto di atti di vandalismo da parte di un gruppo di romi. Cinque ragazzi hanno colpito i due baristi nella notte tra sabato e domenica per poi sfondare la vetrina con uno sgabello. E Fontanini ha chiesto il daspo per quelli tra loro non residenti in città. Io non voglio consolarli, voglio dimostrargli tutta la vicinanza della città perché queste cose non devono accadere. E purtroppo nella storia dei Rom qualche volta queste cose sono accadute. E' ora di smetterla con questi metodi, con questo modo di comportarsi. Io ho sentito prima il vicequestore, mi ha detto che alcuni non sono residenti in città. Allora i non residenti in città dobbiamo dargli un bel daspo che significa che non mettono piede più a Udine per almeno due anni. Ok, questa è già una cosa che io chiederò formalmente al questore perché venga inflitta in pratica così. E poi speriamo la magistratura che faccia la sua parte perché... E per i residenti? Sì, lì sarà la magistratura perché i residenti purtroppo non possiamo allontanarli avendo una residenza qui. Però spero che i magistrati siano severi perché è ora di finirla con queste cose. E' ora di dare un segnale all'opinione pubblica perché la gente è preoccupata. Perché sanno molte volte di essere impuniti e quindi l'arroganza aumenta. Aumenta la voglia, la violenza perché qui c'è stato un fatto di violenza, non di discussione. Qui hanno tirato pugni, hanno tirato sgabelli, vi hanno rovinato il servizio igienico e poi fuori, come si vede, vi hanno spaccato la porta d'entrata. Non hanno pagato, no, chiaramente le consumazioni perché a quell'ora mi sembra che erano già ben alticci. Cioè avevano già superato il livello di guardia, come si dice, per quanto riguarda le bevanti alcoliche che avevano assunto. Quindi a queste persone bisogna dare dei segnali forti. Ed è stata denunciata la 68enne di Pazian di Prato che domenica mattina verso le 10.30 ha investito una coppia di coniugi nei pressi del Città Fiera Centro Commerciale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri di Martignacco che hanno raccolto elementi di responsabilità a carico della conducente dell'auto che ora dovrà rispondere del reato di lesioni personali stradali gravi. Mette in vendita un'auto, una Volkswagen Golf 5 GT Sport, in tasca 200 euro di capara versati da un'ignara acquirente friulana e sparisce con i soldi. La 26enne tarvisiana però, caduta nel tranello, non ha perso tempo e ha immediatamente esporto denuncia ai carabinieri. Al termine di una curata indagine, i militari di Tarvisio sono riusciti a risalire al truffatore, un vettontenne della provincia di Catanzaro che è stato denunciato per truffa. La controllata Fincantieri Vard, fra le principali società al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, ha firmato un nuovo contratto per la realizzazione di ben tre navi della Guardia Costiera con il Norwegian Defence Material Agency, ovvero l'agenzia del Ministero della Difesa della Norvegia che ha il compito di sviluppare e modernizzare le forze armate nazionali. Il valore delle commesse supera i 5 miliardi di corone norvegesi per un controvalore in euro di circa 550 milioni. Sei giovani diaconi sono stati ordinati sacerdoti ieri in Duomo Udine. L'arcivescovo Mazzocato li ha esortati a portare la speranza del Vangelo agli oppressi. Siate sempre pronti a portare Gesù e la speranza del Vangelo a chi è affaticato e oppresso dentro le vicende della vita. È questa l'esortazione rivolta dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ai sei nuovi sacerdoti della Diocesi. L'ordinazione dei giovani diaconi Paolo Greatti, Francesco Ferigutti, Michele Sibau, Alberto Paschini, Nicola Zignin e Michele Lakovic è avvenuta domenica in Duomo Udine, gremito per l'occasione. C'erano tanti fedeli, le famiglie dei sei giovani e le loro comunità d'origine dove già prestano servizio. Può aiutarci nella nostra fede, ha detto Monsignor Mazzocato, l'esempio di San Giovanni Battista di cui in questa Santa Messa celebriamo la festa della nascita e sotto la cui protezione mettiamo i sei nuovi presbiteri. Oggi siete qui, ha detto l'arcivescovo di Udine, perché Dio Padre, quando vi ha tessuti nel grembo di vostra madre, ha pronunciato il vostro nome con un amore di predilezione e vi ha chiamati ad una vocazione santa che riempisse tutta la vostra vita. Vi siete affidati alla volontà di Dio Padre senza spaventarvi o chiudervi nei vostri progetti. Avete ascoltato lo Spirito Santo che parlava in voi e vi convinceva a seguire Gesù. Servo di Cristo e dei fratelli nella Chiesa, ha proseguito nell'Omelia l'arcivescovo di Udine, sarà il nome che Dio Padre pronuncerà tra poco su ognuno di voi sei, riempiendovi di Spirito Santo. Di questi servi abbiamo bisogno, sempre pronti a portare il cuore di Gesù e la speranza del Vangelo a chi è affaticato e oppresso dentro le vicende della vita. Giovanni Battista, nella cui festa venite ordinati presbiteri, ha concluso Monsignor Mazzocato, vi resti come grande esempio e interceda per voi. E in occasione della natività di San Giovanni Battista, ieri è stata riaperta la chiesa, lui dedicata a Cividale dopo decenni di chiusura e lunghi lavori di restauro. Sono quasi 40 anni che è chiusa, è stato un deposito, è stata poi restaurata a cura della sovrintendenza regionale, in modo particolare un grazie anche all'architetto Rigo, che ormai ha lasciato questo mondo, che si è impegnata per la sistemazione e il restauro di questa chiesa. È una bella chiesa che viene ridata alla città, perché la città e anche i turisti ne possono usufruire. La soddisfazione della comunità dei fedeli coincide con la soddisfazione dell'amministrazione della città di Cividale tutta. per la riapertura di questo luogo molto caro ai Cividalesi, che da oltre 30 anni necessitava appunto di un'importante opera di ristrutturazione. Oggi riapre nel suo splendore, riapre nell'ambito di una sezione rinnovata della città di Cividale, che si accompagna appunto con due piazze che sono state rinnovate nella loro bellezza, con un'importante opera appunto di riqualificazione urbana. Festa a Coloredo di Montalbano per i 50 anni della locale sezione degli alpini a rendere omaggio alle penne nere. Sono intervenuti anche il presidente dell'ANA di Udine, Soravito De Franceschi, e l'assessore regionale Zilli. Il ruolo degli alpini, anche e soprattutto nelle piccole comunità, è fondamentale. Il loro apporto insostituibile. È il messaggio lanciato dal sindaco di Coloredo di Montalbano, Luca Ovan, in occasione della cerimonia svoltasi domenica per il 50esimo anniversario di fondazione del gruppo locale delle penne nere. Dopo la deposizione della corona dall'oro al monumento che sorge vicino alle scuole, hanno preso la parola le autorità. Oltre al primo cittadino, il presidente della sezione ANA di Udine, Dante Soravito De Franceschi, e l'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. Una festa che ha ribadito il ruolo prezioso svolto dagli alpini dell'ANA nelle nostre comunità, ha detto Zilli, all'interno delle quali sono sempre pronti ad operare con spirito di solidarietà e anche per questo la popolazione nutre nei loro confronti un sentimento di grande affetto. Facendo riferimento alla drammatica esperienza del terremoto del 76, che colpì duramente il comune di Coloredo, l'assessore ha ricordato come anche in quella circostanza gli alpini si distinsero nelle operazioni di aiuto alla popolazione, portando fin da subito sostegno materiale e morale al popolo friulano. Per questo, ha spiegato Zilli, i cittadini della regione riconoscono e apprezzano la presenza degli alpini quali portatori di quei valori che sono propri di questa terra. L'umanità prima di tutto, che nei momenti di difficoltà, dà la sensazione di essere supportati da persone amiche. La giornata è proseguita con la Santa Messa e il rancio alpino. Ci spostiamo a Trivignano, dove è andata in scena la diciannovesima edizione dell'esposizione nazionale Canina, che ha richiamato in Friuli tanti amici a quattro zampe e i loro padroni, naturalmente. Questa manifestazione è la diciannovesima edizione, organizzata dal gruppo cinofilo friulano, che ha sede in Udine. Naturalmente siamo la delegazione ENCI del Friuli della provincia di Udine. Oggi abbiamo una consistente partecipazione di cani, di praticamente rappresentanti di tutte le oltre 400 razze esistenti, o una gran parte di loro. Il numero di espositori oggi è oltre 400 cani. Per noi è motivo di soddisfazione, perché non dobbiamo dimenticare mai che il Friuli Venezia Giulia è un angolino dell'Italia spesso dimenticato e di conseguenza far giungere qui presso il nostro territorio una presenza importante di espositori è complicato. Oggi ne abbiamo parecchi, ce ne allegriamo e siamo contenti. Un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Trivignano Udinese, che la struttura è soprattutto della polisportiva, che gestisce la struttura sportiva e che per noi è vitale ed è di vitale importanza, perché noi siamo un gruppo, siamo una decina di persone, però ne servono altre tante, moltissime. Una pietra piccolina crea una montagna, grazie a voi. Chiudiamo con lo sport, parlando di Udinese. Nel Varser dei portieri che si balla in casa bianconera sta per entrare un nome nuovo, quello di Juan Musso, 23enne di Buenos Aires, 1,91 di altezza in forza al racing. Wikipedia lo dà già come nuovo portiere dell'Udinese. In Argentina si dice che il club friulano abbia presentato un'offerta di 4,5 milioni di euro per assicurarsi il giocatore e che il portiere sia destinato a lasciare Avellaneda per la squadra friulana. Il portale Racing Deal Ma riporta l'indiscrezione raccolta da una fonte interna del club argentino che ha assicurato che la trattativa sta procedendo rapidamente e dovrebbe concludersi con esito positivo. Con Meretti in uscita e Bizzari che non è stato confermato, secondo gli argentini Musso potrebbe diventare il titolare della porta friulana. Comunque sia sul suo approdo in Friuli sembrano esserci davvero pochi dubbi. La nostra pagina con l'informazione delle 13 finisce qui. Io vi auguro buona giornata. Vi ricordo l'appuntamento delle 19 con il Tg della Sera. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.